Salve a tutti, eccoci oggi con un altro brevissimo video degli aspetti planetari. Oggi vedremo il sole in aspetto con Mercurio. Allora sole in aspetto difficile a Mercurio. La manifestazione della persona è ostacolata dal fluttuare dei pensieri che la rendono incespicante e incerta per i continui ripensamenti che avvengono in corso d'opera. In alternativa si può manifestare una comunicazione frettolosa e costantemente impaziente. Vediamo cosa succede quando invece sole è in aspetto facile con Mercurio oppure abbiamo già lavorato sopra a questo aspetto difficile. La manifestazione della persona si avvale di una grande chiarezza di vedute ed utilità nell'esposizione. Ne risulta una personalità che riesce ad essere razionale ma al contempo è calorosa e irradiante. Volevo farvi riflettere su quello che si deduce che vale per sole Mercurio in aspetto facile e difficile ma per tutti gli altri aspetti dei pianeti in aspetto facile e difficile. Cosa succede? Vi rendete conto che quando Mercurio è in aspetto difficile e la persona non c'è ancora lavorato sopra è come se risentisse di tutte le sue incertezze. È come se il sole tirasse da una parte e Mercurio tirasse da quell'altra. L'essenza e il sole vorrebbe essere stabile. Mercurio lo destabilizza. Nel momento in cui la persona prende il controllo, l'individuo prende il controllo di questa dinamica fra i pianeti, li coordina e essi cominciano ad agire in maniera coordinata e mirata verso un obiettivo comune per cui l'essenza, il sole, comincia a potersi avvalere della duttilità di Mercurio che non è più un'impazienza, un saltabeccare di qua e di là ma è una duttilità dove il sole si accorge che bisogna essere morbidi, andare incontro alle situazioni, ecco venirgli incontro Mercurio che lo agevola in questo processo per cui quello che ne risulta è quello che vi ho letto, cioè il migliore matrimonio fra questi due pianeti. E con questo vi saluto e alla prossima chicca. Salve a tutti!